Quella tra sabato e domenica è stata la notte della posa della campata del nuovo cavalcavia di via Pisanica sopra l'autostrada a 12. Per consentire la posa della struttura in acciaio che sorreggerà la carreggiata, il traffico tra i caselli di via Reggio e Versilia è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia. Ci sono volute due gru da 400 tonnellate ciascuna, oltre 50 addetti, 10 ore di lavoro ed una complicata e delicata manovra per posizionare il mastodontico cavalcavia in acciaio, trasportato via autostrada con mezzi eccezionali fino all'area di cantiere. Il cavalcavia è stato alloggiato sulle due spalle e sulle due pile, fissato e già dotato di parapetto laterale e rete di protezione. Il cantiere per l'allargamento di via Pisanica e il conseguente abbattimento e ricostruzione del vecchio ponte è iniziato nel gennaio 2020 e prevede la realizzazione anche di due rotonde all'incroci con via Unità d'Italia da una parte e via Olmi dall'altra per un costo stimato dell'intera opera di competenza di salt di 6 milioni e 525 mila euro. Il lotto della via Pisanica è propedeutico anche al completamento del bypass con la via provinciale Vallecchia, opera progettata dal comune per risolvere la problematica legata al traffico pesante. Il bypass metterà infatti in connessione la via provinciale di Vallecchia con la via Unità d'Italia in modo da evitare che mezzi pesanti transiti in una ponte strada o dal centro storico di Pietrasanta.